Odentur, Iesus et Maria Amici carissimi, bentornati a una puntata del ciclo di Catechesi intitolato Il Mistero di Giuda tratto dagli scritti di Maria Valtorta uno studio, come sappiamo, della figura dell'Apostolo Traditore appunto sulla base del resoconto e della narrazione che abbiamo da quest'opera e ricordo sempre all'inizio di ogni puntata che lo studio e la riflessione sulla figura di Giuda è uno dei sette motivi che il nostro Signore Gesù Cristo ha dichiarato essere gli scopi della diffusione di questo eccezionale scritto, chiamiamolo così, che è appunto l'opera sul Vangelo della mistica italiana Maria Valtorta Gesù parla di lui a Giovanni di Giuda questo è un altro capitolo molto interessante vedo Gesù che si dirige quindi riprendiamo la lettura del testo dal nuovo capitolo che è Gesù parla di lui, cioè di Giuda, a Giovanni vedo Gesù che si dirige alla bassa casetta bianca in mezzo all'uliveto un giovinetto lo saluta, pare del luogo perché ha fra le mani gli utensili per potare e sarchiare Dio sia con te e rabbi il tuo discepolo Giovanni è venuto e ora è ripartito per venirti incontro da molto? no, ha appena passato quel sentiero credevamo tu venissi dalla parte di Betania Gesù si affretta a raggiungere Giovanni si salutano con effusione camminando l'uno accanto all'altro parlano amabilmente di ciò che si è fatto entrano nella casetta ospitale e consumano la cena con il padrone di nome Giona e con il suo figlio che infine si ritirano per andare a riposo Gesù e Giovanni invece escono di nuovo nella sera rischierata dalla luna e li prendono a conversare seduti sull'erba del prato la vista di Gerusalemme porta Gesù ad accennare alla corruzione che è nel tempio e ai contrasti che incontrerà in esso ti hanno fatto del male maestro? Giovanni è tutto in pena no no, anzi mi hanno lasciato parlare quando ho chiesto di farlo lo hai chiesto? perché? perché non voglio essere io quello che inizia la guerra la guerra verrà lo stesso perché io farò una stolta paura umana ad alcuni e sarò un rimprovero per altri ma questo deve essere sul loro libro non sul mio no, io guardate quando no quando vedo queste questi espluati nostro signore vado proprio in in estasi cioè questo trafiletto è veramente top e questo vale anche per noi specialmente in certe situazioni un pochino contingenti che stiamo vivendo la guerra facciamo che la inizi qualcun altro non noi perché quando uno inizia una guerra a parte il fatto che inizia una guerra iniziarla uno non può mai essere sicuro proprio che sia volontà di sapete che anche la la dottrina cattolica della guerra giusta la guerra giusta è sempre difensiva non è mai offensiva cioè si combatte per necessità dopo che si è ingiustamente attaccati questo è in due parole la cosiddetta dottrina sulla guerra giusta quindi cominciare una guerra di propria iniziativa ordinariamente non è una cosa buona Gesù non lo ha fatto quella era gente indegna eppure lui era gente indegna attenzione ma rivestita di un'autorità oggettiva sacra perché quelli ce l'avevano e Gesù stesso diciamo così in quanto Dio da Dio luce da luce Dio vero da Dio vero era la fonte di quell'autorità perché ogni autorità legittima per quanto indegna sia chi l'esercita viene da Dio quindi in quanto autorità deve essere riconosciuta e lui lo fa chiede il permesso di parlare a casa sua per non iniziare la guerra perché se non lo fa tu hai predicato in maniera illegittima tu non sei rispettoso dell'autorità costituite eccetera questo Gesù non se lo fa a dire pur sapendo dice tanto la guerra verrà lo stesso sì verrà ma questo deve essere sul libro sul conto loro non sul mio riflettiamo veramente bene a questo insegnamento dato da Gesù non soltanto con le parole ma anche con le azioni ritengo molto molto importante via un poco di silenzio poi Giovanni torna a parlare maestro io conosco Anna e Caifa per bisogni di affari la mia famiglia è stata in rapporti con loro quando io sono stato in Giudea venivo per Giovanni Battista venivo anche al tempio loro erano buoni col figlio di Zebedeo mio padre pensa sempre a loro col miglior pesce è costume sai quando si vuole averli amici continuare ad averli bisogna fare così lo so Gesù è serio ebbene se credi io parlerò di te al sommo sacerdote e poi se vuoi io conosco uno che ha il rapporto di affari con mio padre è un ricco mercante di pesce ha una casa bella e grande presso l'Ippico perché sono persone ricche ma sono anche molto buone se resti più comodo ti stancheresti di meno per venire fin qui si deve passare anche quel soborgo di Ofel così disordinato è sempre pieno di asini e di ragazzi rissosi no Giovanni io ti ringrazio ma sto bene qui vedi quanta pace l'ho detto anche all'altro discepolo che mi faceva la stessa proposta lui diceva per essere meglio considerato ma io invece lo dicevo perché tu ti stancassi di meno non mi stanco Giovanni camminerò tanto e non mi stancherò mai sai cosa che mi stanca? il disamore oh quello che peso come portassi è un peso sul cuore io ti amo Gesù sì e tu mi sollevi ti voglio tanto bene Giovanni e te ne vorrò sempre perché tu non mi tradirai mai tradirti oh eppure vi saranno molti che mi tradiranno Giovanni ascolta ti ho detto che mi sono fermato qui per istruire un nuovo discepolo è un giovane giudeo istruito e conosciuto ah allora fare molto meno fatica è con noi maestro sono contento che tu ne abbia qualcuno più capace di noi credi tu che farò meno fatica? eh se è meno ignorante di noi ti capirà meglio e ti servirà meglio specie se ti averà meglio ecco hai detto bene ma l'amore non va in ragione dell'istruzione e neppure la formazione un vergine ama con tutta la forza del suo primo amore questo anche per le verginità del pensiero e l'amato penetra e si imprime più in un cuore e in un pensiero virginale che in uno in cui già altri amori furono ma se Dio vorrà senti Giovanni io ti prego di essergli amico il mio cuore trema a mettere te agnello in tonso presso l'esperto della vita ma anche però si plaga perché sa che tu sarai agnello ma anche aquila e se l'esperto vorrà farti toccare il suolo sempre fangoso il suolo del buon senso umano tu con un colpo d'ala saprai liberarti e volere solo l'azzurro del sole per questo ti prego di conservando te qual sei essere amico del nuovo discepolo che non sarà molto amato da Simon Pietro e anche da altri per trasfonderti il tuo cuore oh maestro ma non basti tu io sono il maestro al quale non tutto si dirà tu sei il condiscepolo di poco più giovane col quale è più facile aprirsi io non dico di ripetermi ciò che egli ti dirà odio le spie e i traditori ma ti chiedo di evangelizzarlo con la tua fede e la tua carità con la tua purezza Giovanni è una terra inquinata d'acqua e morte va prosciugata col sole dell'amore purificata con l'onestà dei pensieri desideri ed opere coltivata con la fede puoi farlo ah se tu credi che lo possa o se tu lo dici che io posso fare questo questo farò per amore tuo grazie Giovanni faccio una pausa il brano è molto bello e anche molto significativo allora qui si vede subito la come dire una cosa che fa sempre molto molto pensare e anche a volte almeno per quanto mi riguarda lascio un po' senza parole no però entro certi limiti da subito Gesù ha cominciato a pensare ai modi con cui aiutare questo disgraziato perché questo è proprio un disgraziato la cosa sconvolgente è quella che è che vedremo tante volte nel corso dell'opera è che Gesù pur sapendo in quanto Dio che questo non c'era niente da fare ha operato ed agito come se non lo sapesse cioè facendo di tutto di più il possibile e l'impossibile l'immaginabile e l'inimmaginabile per salvarlo fermo restando la dimensione misterica perché noi teniamo presente che quando volgiamo lo sguardo su queste cose su tutte queste cose io ci sto a contatto dalla mattina alla sera sono un sacerdote cioè l'oggetto del mio amore infinito e del mio servizio che spero di essere di essere un servizio fatto con il cuore con tutto il cuore è fondamentalmente come dice San Giovanni della Croce uno sconosciuto in un certo senso perché in questa vita noi non possiamo avere una conoscenza perfetta del Signore San Giovanni della Croce dice in questo mondo chi si unisce a Dio si unisce come con uno sconosciuto quindi c'è una dimensione misterica imprescindibile quindi cioè come fa come è possibile che uno che già sa che è spacciato se lo sapessi io lascerei perdere tanto lo so che non servirà a niente e però vedete come nel discorso della della guerra no Gesù ci sono molte motivazioni perché ha fatto così primo e questo nel corso dell'opera lo dirà perché non voleva e non vuole questo non avviene con nessun essere umano dare a nessuno la possibilità di dire è però se tu avessi fatto questo è però se tu avessi fatto quest'altro è però se mi avessi detto questo è se mi avessi munito in quest'altro modo io mi sarei salvato nessuno potrà dire questo Giuda meno che mai secondo questa considerazione ci fa comprendere l'importanza della libertà dell'uomo ma di come di come il Signore la tratta e la valorizza ci manda Giovanni da qui sappiamo poco più giovane di te tu sei poco più giovane di lui sappiamo quindi che Giuda era giovane Giovanni a quanto è dato di capire c'era avuto 18 massimo 20 anni e quindi Giuda 23 24 25 giovanissimo colto bello e istruito è chiaro che uno dei motivi per cui Gesù ha messo a fianco Giovanni a Giuda oltre al fatto che lui era l'apostolo innamorato qui lo confessa e anche perché lui era l'apostolo vergine era l'apostolo puro Giuda vedremo nel corso dell'opera che era un lussurio impenitente Gesù dice vado a mettere te vicino a sto suolo fangoso sapete che non mi ricordo se mi sa che sono le rondini che non possono mettere le zampine per terra altrimenti muoiono non mi ricordo se sono le rondini o proprio l'aquila in ogni caso l'aquila vuole alta non per caso il simbolo di San Giovanni è un'aquila ha uno sguardo molto molto penetrante l'aquila e vola molto alto quindi non c'era pericolo per lui di andarsi a infangare ed è molto interessante quello che Gesù dice sulla verginità del corpo e sulla verginità del pensiero un vergine ama con tutta la forza del suo primo amore proprio il senso della verginità nella chiesa è proprio questo cioè un cuore verginale proprio la verginità proprio in sé è quello che rinuncia a al bene non al male del matrimonio ma con il matrimonio ci succede che tu leghi diciamo il tuo amore sponsale ad una creatura che è una cosa bellissima ma è diversa dal rivolgerlo totalmente ed esclusivamente al creatore un vergine ama con tutta la forza del suo primo amore secondo voi perché c'è il celibato per i sacerdoti perché perché un sacerdote di per sé dovrebbe essere vergine e dovrebbe anzitutto perché questa è la quinta essenza di un sacerdote amare il signore tanto perché di tutte più grande è la carità il primo comandamento è il più importante di tutti è un sacerdote che cosa deve fare deve portare il signore alle anime e le anime al signore deve far conoscere l'amore che il signore sa per noi ma anche la bellezza e l'importanza che riveste il ricambiare l'amore che Dio ha per noi compiendo il primo comandamento avere il signore di Dio con tutto il tuo cuore con tutta la tua anima con tutte le sue forze quindi che un sacerdote non lo viva è una contraddizione in termini ecco perché deve essere vergine ovviamente deve essere vergine e non sposato perché poi vado a fare il ci capiamo e questo vale anche per la verginità del pensiero pensiero che non si lascia contaminare l'amato penetra e si imprime più in un cuore e in un pensiero vergine che in uno in cui già altri amori furono sono considerazioni molto molto importanti bene proseguo la lettura Giovanni si rammenta di dover consegnare a Gesù una somma di denaro pervenuta da un benefattore sconosciuto e che gli è stata affidata da Simon Pietro la distribuiremo domani ai poveri così anche Giude imparerà i nostri usi ecco altra altra cosa perché altro problema di Giuda questo lo sappiamo anche dai Vangeli erano i soldi e gli stili perché Gesù era molto gli arrivavano fiumi di bene di soldi e lui faceva le cosiddette partite di giro sapete come sono i bilanci parrocchiali ci sono alcune voci che sono le partite di giro cioè fai la colletta che ne so per l'obolo di San Pietro hanno il bilancio dice ho raccolto 200 euro però sono uscite 200 euro perché quei soldi li prendi e li devolvi alla Santa Sede come obolo di San Pietro quindi li prendi e li giri ecco Gesù faceva quasi sempre così e per sé e anche per gli altri non teneva quasi nulla e qualcuno ogni tanto si preoccupava dice ma qualcosa teniamo solo 0 tutto Gesù l'ha fatto così quindi figuriamoci Giuda che invece come sappiamo dai Vangeli era molto attaccato ai soldi e rubacchiava anche quanto potesse essere come dire d'accordo con questi usi apostolici chiamiamoli così no bene riprendo la lettura tuo cugino è venuto come ha fatto ad essere così svelto era Nazareth e non mi disse di partire no Giuda è il nuovo discepolo qui probabilmente San Giovanni faceva riferimento a Giuda Taddeo d'accordo o Giuda di Giacomo che era non Giuda Iscariota ma era cugino di Gesù perché ovviamente cugino putativo figlio di Alfeo che era il fratello di San Giuseppe dice no Giuda è il nuovo discepolo è di Cariot tu l'hai visto a Pasqua qui la sera della guarigione di Simone era con Tommaso ah è lui Giovanni è un poco interdetto è lui e Tommaso che fa ha obbedito al tuo comando lasciando Simone Cananeo e andando per la via del mare incontro Filippo e Bartolomeo si voglio vi amate senza preferenze aiutandovi scambiovolmente compatendovi l'un l'altro nessuno è perfetto Giovanni non i giovani e non i vecchi ma se avrete buona volontà giungerete alla perfezione e quanto mancherà in voi lo metterò io voi siete come i figli di una santa famiglia fra essa vi sono molti caratteri dissimili chi è forte chi è dolce chi è coraggioso chi è timido chi è impulsivo e chi molto cauto se foste tutti uguali sareste una forza in un carattere e delle deficienze in tutti gli altri mentre così formate un'unione perfetta perché si completa a vicenda l'amore vi unisce vi devo unire l'amore per la causa di Dio e per te Gesù prima la causa di Dio e poi l'amore per il suo Cristo e io che cosa sono io nella nostra famiglia tu sei la pace amorosa del Cristo di Dio dice poi Gesù ancora un parallelo fra il mio Giovanni ed un altro discepolo parallelo in cui ne esce sempre più limpida la figura del mio prediletto egli è colui che si spoglia anche del suo modo di pensare e di giudicare per essere il discepolo è colui che si dona senza volere di sé del se stesso antecedente alla lezione neppure una molecola Giuda è colui che non si vuole spogliare di se stesso e la sua è perciò una donazione irreale porta con sé il suo io malato di superbia di sensualità e di cupidigia conserva il suo modo di pensare neutralizza perciò gli effetti della donazione e della grazia capito quindi Giovanni immagina di lui che si spoglia anche del suo modo di pensare e di giudicare cose molto difficili c'è qualcuno che ha detto giustamente non c'è niente a cui l'uomo rinuncia tanto difficilmente quanto le sue idee e invece può essere necessario perseguire Gesù spogliarsi anche del nostro modo di pensare e di giudicare perché perché lo si deve informare ed uniformare ai modi di pensare e di giudicare che sono propri di Gesù soprannaturali divini giudicare un superbo un avaro un russurioso i primi tre alla grande tutti e tre ce li ha e se li tiene e soprattutto conserva il suo modo di pensare quindi neutralizza gli effetti sia della donazione perché lui ha detto di donarsi a Gesù ma non l'ha fatto l'ha fatto a parole e neutralizza anche l'azione della grazia perché la grazia richiede la buona volontà di camminare in conversione quindi di riconoscerci bisognosi di crescita di di elevazione di cambiamento altrimenti la grazia non ci fa assolutamente nulla se noi fondamentalmente andiamo bene così a cosa ti serve la grazia di Dio a cosa ti serve Dio stesso giuda capostipite di tutti gli apostoli mancati bellissima questa espressione da titolo della catechesi e sono davanti Giovanni il capostipite di quelli che si fanno ostie per mio amore ostia significa vittima in latino il tuo capostipite capostipite di Maria Valtorta che infatti da Gesù veniva affettuosamente chiamata il mio piccolo Giovanni quindi vedete chi è l'ostia è l'anima vittima chi è l'anima vittima è un'anima verginale quindi perché non si può non ci si può offrire vittima quindi il sacrificio se Gesù non è il bene sommamente amato perché solo l'amore come dire rende dolce e suave il sacrificio quando una persona ama anche se soffre per l'amato se si offre per l'amato se si sobbarca di alcuni carichi per l'amato ma lo fa volentieri non ne sente tutto quanto questo grande peso anzi gli sembra che fa sempre troppo poco o niente l'amore è una forza dirompente quando quando si ama si fa qualunque cosa per l'amato qualunque giudaca postibile di tutti gli apostoli mancati e sono tanti io e la madre siamo le ostie eccelse dice Gesù raggiungerci è difficile impossibile anzi perché il nostro sacrificio fu di una asprezza totale ma il mio Giovanni è ostia imitabile da tutte le classi di miei amatori vergine martire confessore evangelizzatore servo di dio e della madre di dio attivo e contemplativo ha un esempio per tutti è colui che ama bellissimo anche martire ho detto altre volte ma forse chi sente questo ciclo di carichesi magari non ha mai sentito Giovanni ha il titolo di martire anche se sapete è l'unico apostolo l'unico di cui quando si sembra la festa il 27 dicembre che colore liturgico è San Giovanni l'unico tra gli apostoli bianco perché non è morto martire ma è martire perché ci hanno provato due volte a martirizzarlo non si sono riusciti una volta facendo libero il venero e un'altra volta sulla pia latina sulla pia antica l'hanno buttato dentro la ventola con la roba lente ma è uscito illeso ricordate le parole di Gesù se voglio che egli rimanga finché io vengano sono episodi questi veramente impressionanti Dio non ha voluto che San Giovanni unico morisse martire di sangue guarda caso Maria Santissima che era regina dei martiri quindi nessuno ha vissuto un martire come lei ma non è stata però nessuno gli ha fatto male nel corpo la Madonna non è stata martirizzata non è morta martire questo è certo con tutto il rispetto è la regina dei martiri perché le sofferenze di una spezza inimitabile che lei ha vissuto non sono paragonabile a nessuna ma non è morta versando il sangue san Giovanni san Giovanni veramente è l'apostolo prediletto quindi Gesù c'era l'apostolo prediletto Gesù c'era l'apostolo prediletto ce l'aveva appunto è chiaro che non era una predilezione capricciosa ovviamente serve una bestemmia solo pensarlo era una predilezione motivata perché san Giovanni era colui che più di tutti assomigliava parecchio allo stile al cuore al pensiero di Gesù e la Madonna al termine della vita terrena di Gesù quando è salito al cielo a chi l'ha lasciata la Madonna a san Giovanni c'erano tanti buoni apostoli ottimi apostoli ma la Madonna l'ha lasciata a san Giovanni proseguo la lettura osserva i diversi modi di ragionare Giuda investiga cavilla si impunta e si è anche mostrato di cedere in realtà conserva la sua forma mentale Giovanni si sente un nulla accetta tutto non chiede le ragioni e pago di farmi felice ecco l'esempio e non te ne sei sentita divenire tutta pace davanti alla tua alla sua semplice e cara amorosità o il mio Giovanni e il mio piccolo Giovanni che io voglio sempre più simile al mio diretto accetta tutto dicendo sempre come l'apostolo tutto quello che tu fai ben fatto maestro per meritare di sentirti dire se la mia amorosa pace ho bisogno di sollievo anche io Maria dammelo il mio cuore per il tuo riposo vedo che abbiamo ancora un pochino di tempo anche perché poi taglierò parte della registrazione la prima parte che abbiamo già affrontato la volta scorsa la toglierò quindi possiamo andare avanti ancora un po' e vedere il capitolo seguente Gesù lo spinge ad aprirsi e lo presenta a due discepoli vedo Gesù con Giuda e Scariota passeggiare su e giù verso una delle porte del recinto del tempio sei certo che verrà dice Giuda ne sono certo partiva all'alba da Betania e al Gezzemani si sarebbe incontrato con il mio primo discepolo una sosta poi Gesù si ferma e guarda fissamente Giuda gli si è messo di fronte lo studia poi gli pone una mano sulla spalla e interroga perché Giuda non mi dice il tuo pensiero quale pensiero non ho un pensiero speciale in questo momento maestro domande te ne faccio persino troppe non puoi certo lamentarti del mio mutismo sì mi fai molte domande mi dai molti ragguagli sulla città e sui abitanti ma non mi apri il tuo animo cosa vuoi che abbiano importanza per me le notizie sul censo e la struttura di questa o quella famiglia non sono uno sfaccendato venuto per passatempo qui tu lo sai perché sono venuto e puoi ben capire che mi prema per prima cosa essere il maestro dei miei discepoli perciò voglio da parte loro sincerità e confidenza ti amava tuo padre Giuda? molto mi amava ero il suo orgoglio quando tornavo da scuola e anche più tardi quando tornavo a Kereot a Gerusalemme egli voleva che dicessi tutto si interessava di tutto quanto io facevo e se erano cose buone gioiva se erano meno buone mi confortava se qualche volta si sa si sbaglia tutti io avevo fatto errore e ne avevo avuto biasimo egli mi mostrava tutta la giustizia dell'improvero avuto o il torto della mia azione ma lo faceva così dolcemente pareva un fratello maggiore terminava sempre così questo ti dico perché voglio che il mio giudo sia un giusto voglio che io sia benedetto attraverso mio figlio mio padre Gesù che ha sempre fissato attentamente il discepolo sinceramente commosso l'evocazione del padre dice ecco Giuda si certo di quanto io ti dico nessuna opera farà tanto felice tuo padre quanto l'essermi discepolo fedele lo spirito di tuo padre esulterà laddove attende la luce perché se così ti educò giusto dovete essere vedendoti mio discepolo ma per esserlo tu devi dirti ho ritrovato il mio padre perduto il padre che pareva un fratello maggiore l'ho ritrovato nel mio Gesù e a lui come al padre amato che ancora piango tutto dirò per averne guida benedizione o dolce rimprovero voglia all'eterno e tu soprattutto soprattutto tu vogliate far sì che Gesù non abbia che da dirti sei buono ti benedico oh sì Gesù se tu mi amerai tanto io saprò divenire buono come tu vuoi e come voleva mio padre e la madre mia non avrà più quella spina nel cuore diceva sempre sei senza più guida figlio e ancora ne hai tanto bisogno quando saprà che ho te io ti amerò come nessun altro uomo potrebbe ti amerò tanto ti amo tanto non mi deludere no maestro no ero pieno di contrasti invidie gerosie smanie di primeggiare senso tutto urtava contro le voci buone in me anche poco fa vedi tu mi hai dato un dolore ossia tu no mi hai dato la mia malvagia natura io credevo di essere il tuo primo discepolo e tu mi hai detto che ne hai già un altro ma l'ho visto da te non ricordi che nel tempio per Pasqua ero con molti cari lei credevo fossero amici credevo che fossi io il primo eretto a tal sorte e perciò il prediletto non vi sono distinzione nel mio cuore tra gli ultimi primi se il primo mancasse e l'ultimo fosse santo ecco allora farsi agli occhi di Dio la distinzione ma io l'uomo ero lo stesso di un amore beato il santo di un amore sofferente il peccatore ma ecco Giovanni che viene con Simone Giovanni il mio primo Simone quello di cui ti parlai due giorni or sono Simone Giovanni tu li hai già visti l'uno era malato ah il lebroso ricordo già tuo discepolo dal giorno dopo e io perché tanta attesa Giuda ah è vero perdono Giovanni ha visto il maestro lo indica a Simone affrettano il passo il saluto di Giovanni è un bacio scambiato col maestro Simone invece si prostra ai piedi di Gesù e li bacia esclamando gloria al mio salvatore benedici il tuo servo perché le sue azioni siano sante agli occhi di Dio e Dio gli dia gloria per benedirlo di avermi dato te Gesù gli pone la mano sul capo sì che ti benedico per ringraziarti del tuo lavoro alzati Simone ecco Giovanni ecco Simone questo è l'ultimo discepolo anche lui vuole eseguire la verità fratello perciò a voi tutti si salutano a vicenda i due giudei con reciproca indagine Giovanni con espansione Gesù ascolta con interesse quanto Simone gli riferisce congiata Giovanni e Giuda a sera voi due mi verrete incontro sulla via del monte io li vedo e distribuiremo denaro ai poveri Gesù solo con Simone gli chiede hai visto il nuovo discepolo l'ho visto è giovane e sembra intelligente sì lo è tu che sei giudeo lo compagirei più degli altri per le sue idee è un desiderio o un comando è un dolce comando tu che hai sofferto puoi avere più indulgenza il dolore è maestro di tante cose se tu me lo ordini io sarò per lui tutto indulgenza sì così forse il mio Pietro e non lui solo avrà un poco di scandalo nel vedere come curo e mi preoccupo di questo discepolo ma un giorno capiranno più uno è malformato e più ha bisogno di cure gli altri o gli altri si formano anche da sé per solo contatto io non voglio fare tutto da me chiedo la volontà dell'uomo e l'aiuto di altri per formare un uomo vi chiamo ad aiutarmi e vi sono grato dell'aiuto maestro supponi che da lui ti verranno delusioni no ma è giovane e è cresciuto in Gerusalemme o vicino a te si correggerà di tutti questi vizi di questa città io ne sono certo io già vecchio inaridito dall'astio sono tornato tutto nuovo da quando ti ho visto Gesù mormora e così sia vieni con me nel tempio evangelizzerò il popolo e la visione a termine allora questo brano è molto importante perché ci dice una cosa che dobbiamo tenere presente anche noi un problema di Giuda che è un problema di tutti noi Giuda faceva tante domande al maestro tante ma non mi apri il tuo animo voglio sincerità e confidenza noi lo apriamo l'animo al Signore pensateci e andiamo a parlare delle nostre magagne cioè supponiamo le nostre magagne le diciamo soltanto in confessione ammesso speriamo che almeno in quella serie le diciamo o noi parliamo con Gesù parlare a cuore a cuore uno potrebbe obiettare sì perché c'è bisogno che glielo dica a Gesù lui sa tutto le conosce le mie magagne e io vi risponderò soltanto come ha risposto qui Gesù a Giuda ma quella famosa frase che lui dice a Santa Faustina lo raccontare infinite volte anche questa qui quando un bel giorno appare a Santa Faustina e dice senti un po' giovanotta tu non mi hai donato ancora tutto di te stessa figuriamoci sta giovane suorina tutta bella consacrata vergine virginale obbediente in tutto umilissima comincia a scerbellarsi e a dire ma come ho fatto che non ho dato tutto a Gesù che cosa ci manca Gesù le riappare e dice guarda tu non mi hai dato tutto e questa moleaccia continua a pensare e poi le riappare Gesù non mi ha dato tutto e dice ma scusami signore dimmi qualcosa perché mi sono interrogato in tutti i modi possibili dico ma forse non sono abbastanza obbediente non sono abbastanza umile non sono abbastanza virtuosa o forse prima di entrare in convento però ho tirato la mia giovinezza Gesù ho cercato sempre di obbedire non lo capisco e sapere che gli dice Gesù tu non mi hai dato la tua miseria come la mia miseria la tua miseria tu non mi parli di te stessa tu non mi parli dei tuoi problemi non mi parli delle tue difficoltà delle tue debolezze delle tue ferite delle tue situazioni e lei risponde signore ma che bisogno c'è di parlarti di queste cose ma tu sei Dio tu conosci tutto e Gesù le risponde ah è vero io sono Dio e conosco tutto mi sembra che in quella circostanza gli disse guarda anzi ti dico che se tu conoscessi fino in fondo l'abisso della tua miseria come la conosco io tu moriresti di dolore quindi premesso e questo vale per tutti se noi potessimo vederci con gli occhi con cui si vede Gesù potessimo vedere quelle famose innumerevoli peccati offese e negligenze mie dell'offertore della messa antica moriremmo di dolore tutti per cui mi raccomando niente superbi niente orgogli niente cose del genere che non c'è niente niente però le dice però tu non me ne parli tu non me ne parli di queste cose e fa senta così ma che te ne devo parlare a fare ma tu le sai già sì le so già ma se tu non me ne parli questi sono problemi tuoi non sono problemi miei io non posso intervenire io non posso aiutarti tu non mi hai chiesto aiuto parla con me non so che dire quando sto dinanzi a Gesù caristico non sai che dire parlagli di te parla almeno con lui io sono un sacerdote sapete una delle cose più brutte della vita con un sacerdote è scoprire o sgamare che le persone non ti dicono le cose generalmente perché hanno paura quasi sempre non te le dicono ma se non me le dicono sapeste quante volte io mi sono trovato dinanzi a situazioni fatti e persone che si vedono certe cose e tu pensi ma se me ne parlasse potrei aiutare questa situazione questa persona ma non te ne parla o perché c'ha paura 80-85% dei casi oppure perché manco le vede con le situazioni problematiche non le vede e quindi non sa di averle e non te ne parla però così è la fine così è la fine quando Gesù cerca di sollecitarlo dice tuo padre tu pensa che c'è un altro padre e al padre tutto dirò tutto a Gesù possiamo dire proprio tutto senza peli per averne guida benedizione dolce e improvero vedete anche quando chiudo forse che è il caso però questo discorso voglio accennarlo la cosiddetta direzione spirituale oh questa qui è quasi vent'anni di sacerdozio allora se una persona ha il cosiddetto direttore spirituale che ce la fa? il direttore spirituale come dice il termine è una persona che dirige il tuo spirito che ti guida verso la perfezione ma questo per farlo ti deve conoscere tu non gli puoi raccontare mezza messa come si dice al padre spirituale perché lui ti guida e ti consiglia secondo la scienza che ha certo alcune cose le vede le sgama ma altre se tu non gli dai l'informazione facciamo un esempio proprio stupido posso fare il digiuno padre? sì il digiuno è una cosa buona ma magari tu sei diabetico oppure c'è qualche altro problema che ne so in passato c'è avuto problemi strani è stato onoressico o bulimico tutte queste cose strane no? allora in questi casi prima di dire sì fare il digiuno dobbiamo parlare un po' nel senso che bisogna verificare se è una cosa buona che è arrivato il momento di farla se alcuni problemi problemati le hai risolte oppure no perché ci stanno problemi di salute che non consentono di fare questa cosa farai qualche altra offerta al signore però se tu non gli redisci le cose al padre spirituale quello ti dice posso fare il digiuno ma certo che sì perché il digiuno di per sé è una cosa ottima graditissima al signore tutti lo devono fare ma se tu non gli dà un'informazione attenzione Dio le informazioni le sa ma se tu non gliene parli tu le strometti gli dici non ho bisogno in questa cosa del tuo aiuto e il signore non te lo dà il signore non fa le cose contro contro la tua volontà capite quanto è importante importantissimo ecco e poi più uno è malformato e più ha bisogno di cure e pensate che Gesù promette a Giuda io ti amerò come nessun altro uomo potrebbe io ti amerò tanto ti amo tanto non mi deludere e così è stato e il dramma è che purtroppo un amore così grande nei confronti dell'apostolo purtroppo fedigrafo a causa della sua cattiva volontà come vedremo a causa del suo non parlare ma lui non parlava con Gesù non ha mai parlato con Gesù e attenzione quando uno non parla con Gesù non si confessa neanche bene perché in confessione non dice i peccati e le problematiche reali dice le solite quattro cose che tutti le facciamo le solite quattro cose no? se uno dà uno sguardo sulla vita quotidiana le trova quattro cose da dì in confessionale ma non sono le più importanti non è il cuore del problema sono le quattro cose ma i nodi profondi guardate che ci sono persone a causa di problematiche molto profonde corrono nel pericolo di vanificare ogni sforzo o opera buona è la verità perché se le tue intenzioni non sono lette se il tuo cuore non è puro se non lo fai per amore di Dio sono sempre le solite grazie si esempi no? dei come dire non vorrei usare espressioni di spregiativa ma delle persone che ti si piantano in parrocchia e vogliono per forza fare qualcosa sapete quante volte dirò questo che sono delle situazioni di frustrazione cioè persone che si sentono mi dispiace fallite hanno bisogno di qualche gratificazione di qualche importanza e te la trovano piantandosi in quel posto lì poi te rendono la vita impossibile a te e a tutto il prossimo a tutti gli altri e magari pensano anche di essere bravo e meritorio perché io sto facendo servizio in parrocchia questo è un esempio proprio banale ce ne sono tantissime di cose del genere va bene amici ci aggiorniamo mettiamo punto di cui benedica e la santa vergine sempre vi potrega grazie a tutti